La huella non molla sulla regionale 8. Dopo il dirottamento di parte dei finanziamenti previsti per la Taranto-Vetrana alla gestione dell'emergenza Covid da parte della regione, il segretario provinciale Giancarlo Turi mantiene alta l'attenzione sul tema. Dal finanziamento di 193 milioni, che è il costo complessivo dell'opera, adesso ne mancano 70 milioni e 600 mila euro. Quindi questo è un fatto che per quello che ci riguarda lo abbiamo fatto emergere in ogni sede, in ogni circostanza. Prima avevamo un problema che riguardava una progettazione largamente incompleta che la provincia di Taranto non aveva provenuto a definire, adesso abbiamo un ulteriore problema che è quello della mancanza del 40% per eseguire l'opera. Come dire, siamo in una situazione estremamente confusa e complessa. A noi come sindacato, come CGL e Cisle Will abbiamo detto che un ente obiettivamente che ha operato e operato male su questo fronte dovrebbe assumere degli impegni ufficiali, attraverso atti ufficiali, e reintegrare il finanziamento che è stato sottratto. Quindi noi ci aspettiamo non dichiarazioni di principio, siamo ancora in alto mare e forse sarebbe opportuno che su questo punto ci siano parole chiare da tutti, pervengano parole chiare da tutti i soggetti che sono coinvolti in questa purtroppo molto molto brutta faccenda. Nella mattinata di sabato 10 intanto Fratelli d'Italia terrà una manifestazione lungo la strada Pulsano-Monacizzo per dire no allo scippo della regionale 8. Saranno presenti il coordinatore provinciale Dario Iaia e il consigliere regionale Renato Perrini. Dario Iaia e il consigliere regionale Renato Perrini